Il terz'ultimo giorno del cinquantennale dell'Interamnia World Cup propone uno degli eventi più attesi, in particolare tra i giovani. Stasera alle 21 in Piazza Martiri si svolgerà la tradizionale elezione di Miss e Mister Coppa Interamnia. Alcuni tra i 2000 atleti arrivati da 70 nazioni sfileranno in passerella per aggiudicarsi il titolo della più bella e del più bello dell'edizione 2023 della Coppa. Mentre dalle 21 e 30 Piazza Sant'Anna ospiterà la Scena, un format ideato e curato dall'Associazione Culturale Shami, che intende focalizzarsi sulla valorizzazione e promozione della musica emergente del territorio terramano, particolarmente florida sia dal punto di vista numerico che qualitativo, spaziando tra tutti i generi musicali e stimolando la crescita di realtà musicali dal basso. L'obiettivo è quello di creare attraverso l'organizzazione di eventi una sinergia tra musicisti del territorio e dare vita a momenti di scambio reciproco e divulgazione delle espressioni artistiche locali. Grazie alla Coppa in questi giorni Terramo si è aperta al mondo per lanciare un messaggio universale, e cioè che la pace non è una parola, la pace è un processo garantito della libertà di abbracciare l'altro pur nelle differenze etniche, religiose, culturali e economiche. Oggi si chiudono con l'aggiunta di alcuni recuperi e le gare della fase eliminatoria. Ieri si è giocato al ritmo serrato in 11 campi cittadini per dare un'impronta quasi definitiva alle classifiche delle categorie dai 12 ai 21 anni.